Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato! Hey, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video! I know that my pronunciation is not perfect, but I do my best, so I would say that we can start! It's the 20th of July and today I have to do a lot of show! Now I work on the computer to do videos on YouTube etc. But today I have to go shopping with my mother and I have to go to the bar where I go usually. This video may be very difficult for me, but it's a challenge that I want to overcome. And nothing, be nice! Let's go! Let's do the shooting! It's very cold! First of all, I can't resist. Help me! To be nice! Well, I know, what it's better for my mom's to pay! Now I know things that I like. One thing I want to watch for my mother to pay. e poi sono arrivata al bar e poi mia sœur e io abbiamo preso l'apertizzo ora siamo al supermercato ok, sono a la casa e ho comprato qualcosa e poi ho comprato due shorts c'è un top e un t-shirt buongiorno, il è l'anno 23 e io devo andare a fare delle cose d'abord, sono arrivata per rinforzare il posto P.I. perché devo inscrivere a l'università il corso che ho chiuso è la gestione di un'entreprise turistica ma è un argomentazione per un'altra video restate a l'occhio se volete un po' io mi scusse se questa video è curta ma comprena che è molto difficile e questa è la mia prima tentativa spero che avete apprezzato la video e io vi invito a lasciare un like, un commentare e vi abonare alla chiena grazie di aver guardato a bientot grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti